Non avete mai sentito parlare di disforia di genere? È quella condizione che si verifica quando una persona si riconosce nel sesso opposto a quello biologico. Sono Marianita Parzi. Sono, più che faccio, una psicoterapeuta, una persona che si interessa da tanti anni dei bambini, degli adolescenti, dei problemi delle famiglie. E io mi sono molto emozionata guardando queste testimonianze. Vorrei dire che la prima cosa che mi viene in mente è che la sessualità è quella che dà vita alle forme della vita e quindi garantisce la continuità della nostra vita sul pianeta. E che l'identità sessuale di genere non è uno specifico, è un insieme. Sostanzialmente bisogna superare gli atteggiamenti di discriminazione e la paura di chi non è, non corrisponde a un determinato tipo di situazione che ben conosciamo. Sono maschi, sono femmine e tutto quello che c'è tra i maschi e le femmine, tra una condizione e un'altra, ci spaventa, ci determina una paura. E noi dobbiamo superare questa paura attraverso però la conoscenza. Perché l'esperienza che ho fatto nel mio studio, sono venute tante volte delle persone, tra l'altro portandomi dei bambini e delle bambine molto piccoli. Perché questi segnali di, tra virgolette, di specialità, particolarità che non corrispondono a, è un bambino, è una bambina, arrivano molto presto. Tre anni, quattro anni, due anni e mezzo. E il discorso dei genitori è, correggiamo questo difetto. E quindi il problema non è accettare, accogliere, osservare, comprendere, sapere, farsi aiutare. No, il problema è correggere. Perché il problema sono gli occhi degli altri. Il problema è il giudizio. Il problema è la società che ti può dire che quel figlio non è, tra virgolette, normale. E allora io credo che la prima cosa che si deve fare è dare una informazione corretta. Perché di educazione sessuale non si può assolutamente parlare. Ogni volta che qualcuno fa un tentativo passando per la scuola viene rigettato contro. Quindi la mia proposta è, anzitutto, una formazione per genitori e per la famiglia che sia fatta passando attraverso le esperienze che i genitori fanno. La prima esperienza che i genitori fanno è portare un bambino dal pediatra. E il pediatra tante volte non è in collegamento con l'europsichiatra infantile, con lo psicologo dell'età evolutiva. Non hanno collegamento tra loro. Non c'è un discorso di sessuologo, pediatra. Invece ci deve essere per aiutare le persone a crescere. Siano maschi, siano femmine, siano persone che non sono, si sentono ingabbiate se sono bambini nel corpo di una bambina e si sentono ingabbiate se sono bambini nel corpo di un bambino. Bisogna permettere questa espressione. Bisogna cercare di fare questo perché questo fa parte dei diritti dei bambini. Gli adulti devono favorire questo, l'identità sessuale di genere. Grazie. Grazie professoressa Parti, grazie mille. Una spreca di mano. Grazie.